Ciao, sono Chiara Bacchini del blog Il Castello di Zucchero. Il mio blog è di un blog di lifestyle, mi occupo principalmente di piccola pasticceria, calligrafia e fotografia. Quando non sono blogger, nella vita mi occupo di commercio, di ardamento soprattutto e poi la moglie. Tre parole per definire il mio blog, romantico, personale perché racconto tanto di me e spero un pochino differente da quello che c'è in giro parlando anche tanto di calligrafia. L'ultimo libro, il mercante di libri maledetti di Simoni, l'ultimo blog, sweet as a candy. Il mio sogno nella vita è diventare mamma e il mio sogno per il web è continuare a fare quello che faccio e magari farlo diventare un lavoro un pochino più serio.